Ciao a tutti, volevo fare i complimenti a tutti quelli che oggi hanno partecipato alla Virtual Sportful Dolomiti Race e ringraziare tutti quelli che l'hanno seguita. Per me è stata davvero dura, è stata la prima e unica gara virtuale in questi più di 40 giorni di lockdown. Finalmente domani potremo tornare a uscire su strada e mi raccomando fatelo con responsabilità. Ciao!